benvenuti e benvenute trofei stupidanti nuova rubrica incredibile di trofei stupidanti allora l'unica cosa è che non riuscivo benvenuti e benvenute trofei stupidanti nuova rubrica incredibile di trofei stupidanti allora l'unica cosa è che non riuscivo tutorial addirittura questo è difficile raga questo è complicato questo l'hanno incasinato ecco la x 10 trofei 20 40 andiamo a scavare e vai e vai e vai 50 uno dietro l'altro 60 vediamo quanti 80 90 100 sono più avanti dei trofei uno dietro l'altro allora ogni 10 da un trofeo siamo ancora a 100 e siamo ancora a bronzo e quindi raga andiamo a scavare questo vi metterà dura prova la x il tasto x 150 e siamo ancora a bronzo e qua non si scherza ragazzi questo non è il solito schiacciare r1 e vita qui bisogna veramente veramente fare le cose alla grande 160 siamo ancora in bronzo mi stupisco un po' di quanti trofei ci sono 170 smelt 170 bronze ingots ingots non l'ingots l'ingots 200 abbiamo ancora un po' 190 trofeo bronzo 200 ma quanti bisogna farne e poi ragazzi bisogna schiacciare la x 110 220 questo è top secondo me a 250 arriviamo ad argento 240 bronzo vediamo se arriviamo a 250 c'è a 2 e 90 siamo ancora a bronzo 300 ancora bronzo porca ma questo non me l'aspettavo raga ancora bronzo quanti non lo fatti una lista trofei di 50 una lista trofei di 50 incredibile raga vediamo se al 350 arriva il primo argento ancora bronzo non ci posso credere quanti ce n'è quanti hanno fatti nooo a 500 incredibile non ci credo comunque x a manetta eh vediamo a 400 se ancora allora 390 è bronzo vediamo a 400 non ci credo raga è un mix tra l1 e dai 500 voglio vedere 500 allora ogni 10 dal trofeo voi probabilmente non li vedete raga ma potete fidarvi che ci sono 450 ancora mamma mia sei serio ma hanno fatto un capolavoro 470 sono talmente lenti i trofei che 480 490 vediamo se al 500 no raga non ci credo che lista trofei hanno fatto sono rimasto basito ragazzi non mi aspettavo questo vi dico la verità io ho x a manetta non riesco a capire neanche la motivazione di fare sta cosa perché tanto i trofei non sono 600 è ancora è ancora bronzo no dai ma sei serio gioco ma come è possibile sono già 61 trofei non ci credo raga oh gold ah è passato subito incredibile erano tutti bronzo no saving game incredibile al prossimo video gioco trofei stupidanti ma non è perché voglio prendere in giro questa tipologia di videogiochi è perché hanno trovato un modo per poter vendere un giochino ridicolo fatto penso da una persona in 10 minuti a 1 euro e 49 ecco così la gente lo compra e fa vedere che c'ha un botto di trofei a me dei trofei non me ne frega niente infatti non li faccio neanche vedere nei miei canali di gaming e quindi vi faccio vedere tutta la serie di questi giochi incredibili 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 questo era gli anni del bronzo un sacco di ringotti di bronzo probabilmente ci saranno anche gli anni dell'oro gli anni di diamanti gli anni di qualsiasi pietra o materiale prezioso gli anni dell'argento dell'acciaio e poi li dobbiamo anche fondere perché l'acciaio non esiste è un prodotto che ha creato l'uomo ciao ragazzi ci vediamo alla prossima mi raccomando di seguire il mio canale youtube facebook twitter instagram tiktok twitch marcodramsgames cercatemi sempre in tutti i social così iscrivetevi al mio canale youtube commentate mettete mi piace se vi piacciono questi qui se vi fanno ridere come comunque mi fanno ridicchiare anche a me perché questo qui non me lo aspettavo che c'erano tutti questi bronzi e poi dopo è passato subito oro e platino vabbè vabbè stavolta non ha messo tanti argento tanti argento va bene ciao a tutti ragazzi al prossimo video mettici ciao a tutti 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 ciao a tutti